Ultimi giri di pista prima dello spettacolo per Emanuele, 18 anni, l'amore per i motori nel sangue. Io ho iniziato grazie ai miei genitori che sono entrambi piloti. Emanuele, professione stuntman driver. Ogni giorno con il quodo con le macchine, anche su due ruote, provare sempre nuove esibizioni perché ovviamente si va sempre avanti ad allenarsi. Si preparano, ultimi minuti di concentrazione e di silenzio, poi si va in pista. Ed è tutto un rombare di motori, evoluzioni, esibizioni adrenaliniche e i 2000 spettatori dell'arena restano senza fiato. Sono 14 gli stuntman di Mirabilandia, 60 auto, 5 moto, 5 quad, 3 camion, d'estate 4 spettacoli al giorno. Caratteristiche, bisogna avere molto carattere e molta passione. C'è tutta una preparazione, c'è la preparazione delle auto, la preparazione fisica, la preparazione mentale, il tempo, c'è molto sacrificio. Davide conduce lo show, serve grande concentrazione e fiducia nella squadra. Le auto lo sfiorano. Qual è la cosa bella del suo mestiere? La cosa bella è che non c'è routine, non c'è quotidianità, c'è un'emozione che si scatena all'improvviso e che ti può trasformare lo spettacolo. Tutti devono lavorare per far funzionare al meglio lo spettacolo e per far vivere un'esperienza adrenalinica al massimo a chi ci viene a trovare. Però lo ammetta, un po' di paura c'è. Dai, sì, una paura che la sappiamo gestire si trasforma in adrenalina.